The Incredible Now, questo è il tema dell'edizione 2021 del World of Business Ideas che torna in presenza a Milano dopo l'edizione digitale del 2020. Un evento che da oltre 15 anni rappresenta un punto di riferimento per la business community italiana e che tra i suoi vari appuntamenti ha offerto l'occasione per l'incontro tra Banca Mediolanum e Amazon, due realtà che a loro modo hanno rivoluzionato i rispettivi settori di competenza. Credo che la caratteristica principale riguardi proprio la centralità del cliente. Ora si parla tanto di centralità del cliente però il modo in cui viene interpretata è l'elemento che caratterizza e differenza quelli che sono gli approcci. Se pensiamo ad Amazon tutti conosciamo benissimo quello che è l'esasperazione nell'attenzione al servizio che hanno, sia pre-vendita che post vendita. E Banca Mediolanum da sempre ha un'attenzione esasperata alle esigenze del cliente. Infatti la soluzione di servizi che offriamo alla nostra clientela va molto oltre quelle che sono le soluzioni di investimento che caratterizzano anche quello che è principalmente l'attività delle reti nel mercato italiano e vede Mediolanum essere il leader assoluto relativamente all'offerta di servizi bancari con oltre il 60% di clienti che utilizzano la banca come banca principale con oltre il 50% del credito regato relativamente al mercato delle reti di promozione finanziarie e oltre il 90% dei prodotti di protezione e assicurativi. Quindi due aziende che mettono al centro il cliente, che investono sul cliente e che investono quindi sulla costruzione in una relazione di lungo periodo.